ciao ragazzi sono denis minecraft betta sono sempre io oggi vi mostrerò come costruire una porta scomparso con la sabbia vedete sono facili vedete iniziamo a fare la struttura prendiamo questo pistone appiccicoso pistone appiccicoso poi prendiamo anche la sabbia ci abbiamo qua ma io la prendo adesso nera la legna per decorarla il ripetitore del ripetitore e la pietrina rossa ok credo che così vada cominciamo a fare già dovremmo mettere aspetta aspetta un momento provo a rivedere il meccanismo sempre così tipo così e così vedete come devo fare io tipo così poi devo fare una scalinata così e mettere il ripetitore aspetta adesso prendiamo il pistone appiccicoso è questo e la sabbia lo litighiamo tutto se mettiamo la leva e va su vedete se vogliamo decorarla potete farla così qui aspetta e vedete la Facilitità potete uscire se volete tipo una spalinata per la redton si dice così in inglese credo mettiamo la leva qua davanti vedete vediamo la leva va su vediamo la leva e va giù mettiamo la stessa cosa anche per di qua da così da così e la leva credo qua ok vediamo in funzione vediamo cosa vedi tu mercante delle schifezze già viste beh del vostro denis e anche minecraft beta ci vediamo nel negli altri prossimi video ciao ragazzi